L'accompagnatore arriva, se vuoi prepararti, ci sono orga, e poi vediamo. Amiamoci! Grazie mille! Prendi questa ragazzina che va su tutti i telegiornali. Ma non è mica vero! Succheretta! No, ma dice solo queste cose che non sono mica vere. Ah, ti lancia! Lui che è bravo! L'ho già sentito prima! Lui è in gamba! Gammissimo! Eh, lui sì! L'abbiamo fatto arrivare dalla Svizzera! È già avanti! Eh, sì! Rai Luigi? No! Rai Biscottino da Novada! Eh? Rai Biscottino da Novada! Ah, questa ora è... Svizzera! Svizzera! Allora è un po' semplice, che spirata è Luigi Svizzera? Svizzera! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.